Una vacanza all'insegna dell'arte, sono diverse infatti le proprietà presenti soprattutto in Europa disponibili sul sito homeway.it che rendono possibile vivere un soggiorno artistico respirando l'atmosfera dei luoghi che hanno visto la nascita di tanti capolavori. Si va dal rifugio di Gustav Klimt alla dimora fiorentina del Giambologna passando per le residenze di Gauguin e Modigliani. Prezzi a partire da 650 euro a settimana.